Salve a tutti voi. Abbiamo deciso di dedicare interamente questa puntata all'esperienza di sicuri per mestiere. È un'esperienza molto interessante dal punto di vista della prevenzione infortuni che è stata applicata alla costruzione del grattacielo Unifim. È il più grande grattacielo che è stato appena finito di realizzare a Bologna ed è anche uno dei più grandi a livello nazionale. La costruzione del grattacielo è stata fatta dalla grande cooperativa CMB di Carpi con un grande coinvolgimento dei lavoratori delle ditte subappaltatrici sulla sicurezza sul lavoro. Siamo andati nel cantiere per intervistare i diretti protagonisti di questa esperienza. Per la complessità dei processi costruttivi adottati e lo sviluppo in altezza della struttura la realizzazione della torre ha comportato l'analisi dei rischi specifici legati all'andamento del cantiere. Dopo aver valutato con attenzione la situazione CMB ha manifestato la volontà di innovare e sperimentare nuovi metodi volti a migliorare la tutela della sicurezza e a produrre comportamenti individuali più responsabili nei lavoratori. In questo cantiere ci sono molti tecnici che tutte le mattine vengono in mezzo a voi per studiare e pensare alla sicurezza sui comportamenti individuali che con sicuri per mestiere, che è il nome che abbiamo dato a questo progetto, vogliamo incidere e lavorare. In una parola, bisogna che cresca nel cantiere una cultura della sicurezza che si basa su alcuni valori che è necessario condividere. Tutti siete invitati a partecipare all'osservazione dei comportamenti rispondendo sinceramente alle domande che vi faranno gli osservatori, avanzando suggerimenti e osservazioni e prendendo molto sul serio i loro consigli per la sicurezza. Le schede di osservazione che compileremo noi osservatori riguardano i tre rischi fondamentali che abbiamo individuato all'interno dell'area di cantiere, quindi la caduta di oggetti dall'alto, la caduta di persone dall'alto e l'utilizzo di macchine e attrezzature. Stiamo cominciando ad adattarci e a prendere in considerazione tutto questo discorso che è molto molto importante. Dobbiamo collaborare tutti insieme e nessuno si deve fare no, perché la mattina ci alziamo presto e veniamo a lavorare, quindi per portarlo subito a casa. È un cantiere complesso, con tecnologie elevate e anche con una difficoltà tecnologica molto importante, quindi abbiamo voluto provare un metodo che ci consentisse di garantire la sicurezza dei nostri colleghi che operano in cantiere a tutti i livelli. Abbiamo avuto a distanza di tre anni solamente sette infortuni e inferiori ai sette giorni di prognosi, quindi vuol dire un infortunio ogni 200.000 ore lavorate, quindi di 25 volte inferiore allo standard nazionale che è attestato su un infortunio ogni 780 ore lavorate. Questo se considerate che in questi tre anni si sono avvicendati dalle 100 alle 300 persone tutti i giorni, sono passate per questo cantiere 1.500 operai di 32 nazionalità diverse. Un cantiere estremamente complesso e oggi non abbiamo completato e non dobbiamo abbassare la guardia in questo cantiere, perché l'infortunio è sempre presente e quindi bisogna fare di tutto affinché questo non succeda, soprattutto in questi grandi cantieri dove le maestranze non sono tutte italiane, hanno culture diverse di approccio alla sicurezza e quindi anche notevoli difficoltà ad ambientarsi, a comprendere chi sono i loro preposti, a comprendere le regole e quindi molto va fatto attraverso la comunicazione, comunicazione a persona a persona, che è un po' quello su cui si basa questo progetto sicuri per mestiere all'interno di questo grande e importante cantiere e ha valenza anche di responsabilità sociale d'impresa, oltre che di relazioni con gli operai. Abbiamo ottenuto un grosso risultato tramite anche questo modo di comunicare la sicurezza, che è abbiamo chiamato, abbiamo dato questo nome a questo progetto sicuri per mestiere. Quindi noi lo stiamo già usando in un altro cantiere che è l'Università, la Facoltà di Chimica Farmaceutica di Modena, un altro grande e importante cantiere e che è iniziato da più di un anno e anche lì stiamo avendo degli ottimi risultati. È uno strumento nel quale crediamo, quello della comunicazione, migliorare le relazioni all'interno del cantiere. Nel cantiere Torre Unifim di Bologna è in atto da tempo un grande progetto per migliorare la sicurezza che coinvolge tutti i lavoratori. Se ognuno farà bene la parte che gli spetta, il progetto avrà successo. I lavoratori eviteranno infortuni perché opereranno in modo più sicuro. Ad oggi sono stati individuati alcuni comportamenti critici da correggere e azioni di miglioramento da attuare. Ci si trova lungo un percorso in cui occorre continuare ad approfondire l'argomento sicurezza e rinforzare il grado di responsabilizzazione delle persone rispetto al lavoro e ai comportamenti virtuosi. Vengono premiate le attenzioni nei confronti dei colleghi perché il vero professionista fa squadra. Quindi, se mi rendo conto e mi preoccupo anche della sicurezza dei miei colleghi, la mia squadra vince i punti doppi. Cosa succede alle squadre migliori? Nella borsa che vi abbiamo consegnato c'è una maglietta di colore bianco. Abbiamo deciso di dare a tutti la maglietta di colore bianco. Le squadre più virtuose avranno diritto poi ad una maglietta di colore diverso. Verde per quelli che hanno diritto, in qualche modo, allo step successivo. E i campioni si guadagnano poi la maglietta blu. Questa gara serve proprio per questo, per poter far sì che prendiamo conoscenza e coscienza di tutto quello che, delle pericole che ci circondano. Sicuri per Mestiere è un progetto che sostanzialmente si ispira alla BBS, significa Behavior Based Safety, cioè sicurezza basata sul comportamento. Il suo scopo è quello di ottenere dalle persone comportamenti sicuri, al di là anche della normativa di sicurezza, che peraltro rimane, esiste e deve essere osservata. Ma il punto di partenza della BBS è che poi, alla fine, se le persone non si comportano individualmente, collettivamente, in modo sicuro, tutto l'apparato della sicurezza può al massimo servire a ridurre le conseguenze degli incidenti, non evitare gli incidenti. Per cui la BBS parte da un principio, che è che le persone si comportano perché ne hanno motivo, perché capiscono perché devono comportarsi in un certo modo. Allora, sulla sicurezza ci sono evidentemente molte cose da smuovere, molte convinzioni sbagliate da far superare alle persone, e la BBS lavora per questo. La nostra esperienza in sicuri per mestiere è stata interessantissima, da molti punti di vista. Noi, come nostra origine, come nostro mestiere, siamo formatori, quindi siamo persone che si occupano di facilitare l'apprendimento, e questo è stato un momento di grande apprendimento collettivo. determinato, e questo forse è l'elemento più interessante, più dalle relazioni che si sono create tra i diversi soggetti del cantiere, che non da azioni formative, esplicite, vere e proprie. Per esempio, il fatto che le persone nel cantiere siano state investite di responsabilità rispetto al proprio operato, ma non solo, siano state considerate soggetti capaci di comunicare tra loro e tra tutti loro. è stato un elemento scatenante fortissimo di apprendimento. Allora, ad esempio, nelle osservazioni che venivano fatte da parte di persone dello staff di cantiere, costoro non si limitavano a dire «Ah, ecco, hai sbagliato, me lo segno», ma chiedevano al lavoratore, per esempio, «Come mai non indossi del metto in questo momento?» e il lavoratore era libero di spiegarsi e di interagire colloquiando col tecnico, il quale poi a sua volta prendeva atto dei perché e ragionava con lui sul tema «È importante mettere comunque nel metto?» Allora, il fatto che gli operai si siano sentiti soggetti di comunicazione degni e alla pari, di pari dignità rispetto ai tecnici, rispetto ai geometri, agli ingegneri, è stata una chiave formidabile di cambiamento di comportamenti, cioè di apprendimento. Allora, da questo punto di vista la nostra esperienza è stata estremamente istruttiva, anche per noi che di apprendimento ci occupiamo, ahimè, da troppi anni, almeno per me personalmente. Sicuri per Mestiere è un progetto che appunto si ispira alla BBS e ha al proprio interno un meccanismo molto importante, che è quello delle osservazioni. Sostanzialmente sono stati definiti dei comportamenti obiettivo, dei comportamenti di sicurezza da osservare. Si è costruita una scheda di osservazione che delle persone che fanno parte del gruppo di progetto di Sicuri per Mestiere quotidianamente, girando per il cantiere, utilizzano, quindi utilizzano una scheda di osservazione e controllano, vedono se le persone, i lavoratori, mettono in atto comportamenti virtuosi oppure no. Il meccanismo delle osservazioni è un meccanismo molto importante perché permette agli osservatori di entrare in relazione con il lavoratore, con la persona, e di domandare, di parlare e quindi chiedere al lavoratore il perché della messa in atto di un comportamento non corretto. Questo è un elemento molto importante all'interno del progetto perché permette da un lato di ricostruire le cause. Quali sono le motivazioni? Cioè perché la persona non mette il casco? Perché in quel momento non ha i dispositivi di protezione individuale? Se si risale alla causa e quindi al perché non lo sta facendo, questo permette di rimuoverla alla causa perché allora si va a intervenire sulla motivazione e si chiede alla persona il perché e poi si dice guarda che il casco va messo, va messo perché potrebbe caderti qualcosa dall'alto oppure tu potresti farti male alla testa se stai facendo una lavorazione di un certo tipo. Si instaura quindi una relazione uno a uno con il lavoratore, con la persona e dicevo il meccanismo delle osservazioni è molto importante perché è anche un momento formativo. Formativo perché? Perché ovviamente si parla del lavoro in quel momento, non è che si parla di altro, si parla dell'attività lavorativa e si chiede il perché della messa in atto di un comportamento sbagliato ma poi si dice lo sai che per effettuare quella lavorazione devi metterti guanti oppure devi proteggerti con la mascherina o con altri dispositivi, ah non lo sapevo ma chi me lo doveva dire te lo deve dire il tuo preposto, ma chi è il mio preposto? Ah il tuo preposto è la persona che quindi si danno anche delle informazioni che a volte si danno per scontate, si pensa che il lavoratore le sappia invece si viene anche a sapere che non le sa quindi quello è un momento molto importante anche per passare delle informazioni e formare la persona rispetto a l'attività lavorativa nello specifico e quindi non isolando la sicurezza dal lavoro ma vedendola integrata. Io penso che questa esperienza sia stata un'esperienza molto positiva per i risultati che è riuscita a raggiungere ma anche molto arricchente, arricchente dal punto di vista professionale beh intanto mio perché comunque è da quasi 15 anni che faccio questa professione di formazione e di consulenza il vedere però messa in atto varie discipline che avevo comunque studiato e che ho sperimentato in altri contesti lavorativi in altre aziende, in altre organizzazioni qui in un cantiere complesso è stato molto arricchente dal punto di vista professionale però arricchente anche per le persone del gruppo di progetto le persone di CMB di Nuova Gorà che hanno acquisito delle competenze di comunicazione, di capacità di lavorare in gruppo, di fare squadra ma soprattutto di entrare in relazione con le persone, i lavoratori del cantiere di culture diverse, di nazionalità diverse, di estrazione culturale differente e riuscire a fare squadra crescendo insieme per raggiungere lo stesso obiettivo che era da prima e prima di tutto la costruzione ma anche non farsi male e lavorare in sicurezza quindi è stata arricchente questa esperienza perché ha portato con tutte le varie attività del progetto i modi di comunicare, gli incontri fatti, il dialogo che si è creato con tutti gli attori del sistema ha portato a costruire una cultura condivisa della sicurezza qui dentro in questo cantiere, non uno slogan, non una parola generica e generale ma che cosa significa per noi, per tutti quanti che lavoriamo qui sicurezza cosa vuol dire lavorare in sicurezza e su questo si sono aggregati per lavorare bene insieme vi informiamo anche che Sicuri per Mestiere è diventata una pubblicazione un libro che è corredato da un film che dura 30 minuti gli autori consigliano di vederlo prima di leggere il libro perché viene raccontata l'esperienza dai volti, dalle facce delle persone, i lavoratori, i datori di lavoro i subappaltatori, i progettisti, le persone del gruppo di lavoro, i consulenti e nel libro ci sono ulteriori dettagli sul progetto ma la cosa interessante ci sono le esperienze anche raccontate dai protagonisti e da tutti quanti hanno partecipato all'interno del cantiere al progetto ci sono anche aspetti di metodo, quindi rispetto alla BBS ma anche intersezioni con altre discipline quali l'approccio sistemico, la comunicazione sistemica e il change management il progetto Sicuri per Mestiere è un progetto parallelo a quello che è il decreto legislativo che regola la sicurezza all'interno dei cantieri questo è molto importante perché nulla si deve sostituire a quello che dice l'iter burocratico Sicuri per Mestiere va a incidere sui comportamenti della sicurezza e sviluppa quello che è la cornice che accompagna il lavoro del cantiere cioè nel senso tutte le lavorazioni che gli operai fanno comprendono la sicurezza noi siamo professionisti nel momento in cui la lavorazione fatta con buona qualità rispettando i tempi comprende la sicurezza per esempio, per farvi capire meglio se in un luogo di una lavorazione io ho un operaio che mi sta facendo un metro quadro di intonaco se questo operaio nel momento in cui arriva sul luogo della lavorazione non controlla che l'ambiente sia in sicurezza per se stesso e per chi gli sta a fianco e comincia a lavorare senza controllare queste cose non è un professionista perché non solo non farà bene il suo mestiere ma mette a repentaglio l'incolumità sua e del suo compagno di lavoro con sicuri per mestiere ho appreso una cosa molto importante la cosa molto importante è che nessuno si deve dimenticare dal datore di lavoro fino all'operaio è la dignità del lavoratore noi dobbiamo tenere ben presente che per quanto riguarda la sicurezza sui posti di lavoro non sarà mai fatto abbastanza e non è mai stato fatto abbastanza io sono il direttore del cantiere e la prima cosa che dico a chiunque entra in cantiere è di viverlo esattamente il posto di lavoro come vive la sua famiglia nei momenti di difficoltà siamo sempre a loro con loro e viviamo questa presenza anche in riunioni che facciamo spesso con gli operai dove abbiamo degli obiettivi dove gli obiettivi sono quelli di intraprendere il lavoro nel miglior modo possibile e farlo soprattutto salvaguardando la sicurezza di tutti infatti per questo abbiamo stabilito dei premi anche consistenti soltanto magari conoscimenti così formativi tipo per esempio l'utilizzo di magliette di vario colori a seconda del merito che raggiunge una squadra oppure fare anche delle colazioni di lavoro ma ridotte magari veramente a quelle squadre che si sono un attimino elevate rispetto ad altre poi c'è anche il fatto di incontrarsi mentre faccio i miei giri periodici in cantiere di incontrarsi con gli operai che fanno notare delle piccole disattenzioni che sono all'interno del cantiere e questo significa che la cultura sta prendendo pieta della sicurezza fanno notare magari che non va bene magari come è stato posto un piccolo parapetto o addirittura fanno notare che un altro operaio magari è sprovvisto in quel momento di un elmetto questo è importante non è il fare la spia ma è veramente rendersi partecipi e capire che la sicurezza è di tutti e passa attraverso tutti questo è il messaggio a fine di questo percorso formativo che fanno poi tutti quanti possiamo dire che alle società alle ditte sempre in maniera elargiamo un diploma non è che sia un diploma che dà una medaglia o qualcosa ma dà l'importanza di far capire che hanno partecipato a qualcosa si sono resti parti attivi e sono stati loro gli attori principali del progetto noi siamo stati un po' i comprimari messi da parte ma abbiamo un po' tenuto il controllo nella parte alta della cosa ma è importante invece che l'operaio partecipi e sia veramente edotto della sicurezza il messaggio principale però che passa attraverso tutti è quello che la sera noi dovremo riprendere tutti quanti il nostro viaggio verso casa andarci a casa tranquilli e ritornare nella famiglia in maniera veramente distesi e certi di aver fatto il nostro lavoro fino alla fine che non è soltanto torno a dire il lavoro fatto della muratura o piuttosto del cemento armato ma anche il lavoro di tutti i giorni che passa attraverso salvaguardare anche il mio vicino e il mio amico Con l'adozione della metodologia BBS si è ottenuto il risultato di avere una componente di infortuni assolutamente trascurabile quello che esattamente era l'obiettivo del costruttore per quanto riguarda Lega Coop la tutela e la sicurezza del lavoro per noi viene da lontano evidentemente l'applicazione di questa metodica rientra tra le nostre priorità infatti noi consigliamo sempre il più possibile alle nostre associate di dotarsi di un modello organizzativo o di un sistema di gestione della sicurezza del lavoro di conseguenza la testimonianza di questo ottimo risultato conseguito da CMB è la migliore testimonianza su come implementare la sicurezza in questi termini quindi lavorare in sicurezza e quindi sicuri per mestiere non è solo uno slogan ma è un risultato misurabile grazie a tutti voi che siete rimasti in ascolto di questa puntata sull'esperienza sicuri per mestiere alla torre Unifim le interviste integrali vi ricordiamo sono a disposizione su Youtube nel canale Edilizia Sicura arrivederci grazie a tutti